Musica Processo casalesi e scarcerazione degli imputati, fuochi d'artificio sparati nella notte a Raclea per il ritorno di Luciano Donadio, indagano i carabinieri. Il sindaco Zanchin fa il punto con maggioranza opposizione, dei fuochi si occuperanno le forze dell'ordine, vogliamo ribadire che gli abitanti di Raclea sono estrani a questa vicenda, non accettiamo strumentalizzazioni. Mentre si attendono notizie, domani sera la comunità di Martellago si riunirà in preghiera per Angelo Zen, l'imprenditore sessantenne disperso in Turchia dopo il terremoto. Saranno celebrati sabato mattina a Mirano i funerali di Giordano San Geniti, il 21enne che ha perso la vita nel Padovano in sella alla sua moto. Oltre 2.000 lavoratori anche da Santa Maria di Sala, la manifestazione contro la chiusura di Safilo a Longarone, in prima fila il vescovo Marangoni, domani la protesta degli operai a Sanremo. Il comune di Venezia darà un contributo alle attività che hanno subito furti e spaccate, iniziativa che il sindaco Brugnaro ha definito unica in Italia. Umana Reier ha messo fine i rumors degli ultimi giorni sul nuovo coach che guiderà la squadra, la presentazione venerdì. Edizione di Venezia, dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito dai nostri titoli in apertura. Ieri sera a Eraclea qualcuno ha sparato fuochi d'artificio nei pressi dell'abitazione di Luciano Donadio, imputato nel processo sulla presunta cellula dei Casalesi, che ora ha ottenuto l'obbligo di dimora. Si pensa a un festeggiamento in suonore, intanto indagano i carabinieri. Fuochi d'artificio ieri sera ad Eraclea per festeggiare la liberazione di Luciano Donadio. I razzi sarebbero partiti proprio in corrispondenza della dimora dell'imputato nel processo sulla presunta cellula dei Casalesi, attiva per anni nel Veneto orientale, di cui è considerato il boss e che ora ha ottenuto l'obbligo di dimora. Sono stata informata già ieri sera di questo episodio che è successo verso le 10 e mezza, 10 e 40. Mi hanno riferito che è un episodio che ha durato pochissimi minuti, quindi l'interpretazione che vogliamo dare è quella che probabilmente hanno deciso di festeggiare così, ma sono subito intervenuti i carabinieri, i quali stanno facendo gli accertamenti anche sulla mancata autorizzazione di questi fuochi, dei quali nessuno aveva chiesto nulla in comune. L'amministrazione intanto è pronta a prendere provvedimenti in merito all'episodio avvenuto ieri sera. Si pensa che sia stato solo un festeggiamento tra familiari e gli autori del gesto ora rischiano solamente una multa. È un effetto di stupore perché non ce l'aspettavamo. Naturalmente il fatto che lui sia libero di girare gli è previsto dal provvedimento del giudice solamente la dimora nel comune dove ha eletto la residenza e di conseguenza è una sua libertà e facoltà girare per tutto il paese. Diciamo che non ci stupiamo di questo proprio perché è nelle sue facoltà. Il processo è in corso ma nell'attesa della sentenza è stata disposta la liberazione per Donadio come per tutti gli altri imputati. Dopo un anno e mezzo di commissariamento ora il comune di Eraclea punta al rilancio con iniziative e convegni ma l'opposizione pur condividendo le parole del sindaco puntualizza la mancata adesione ad avviso pubblico. Ho un romano con quello di aver presentato l'azione per adedire all'avviso pubblico che non è stata accolta. Ecco io credo che si poteva fare di più in questi due anni e mezzo in termini di educazione civica. Il sindaco però non ci sta e spiega le sue ragioni. Perché io la vedo come una strumentalizzazione politica. Così come è stata apposta e così come c'è la provenienza di avviso pubblico che secondo me non è completamente neutra a un'appartenenza politica. Ritengo che sia l'ennesimo tentativo di strumentalizzare un argomento per fare notizia o per fare un po' di clamore. E dopo i presunti festeggiamenti di ieri sera tanti commenti tra le persone ma non tutti hanno voglia di parlare. Non so, questa faccenda mi puzza un po'. Vorrei capire da cittadino normale cosa è successo, insomma, tutto qua. A Eraclea la gente ne parla. In casa Donadio si festeggia anche se in modo plateale il ritorno a casa di Luciano e del figlio dopo quasi quattro anni di detenzione. I fuochi pirotecnici di ieri sera non sono piaciuti a tutti e il sindaco ha già promesso sanzioni. Intanto la gente commenta. Come cittadino sono un po' amareggiato comunque. Cosa ne pensa del fatto che hanno fatto i fuochi d'artificio, hanno festeggiato? Io non sono a conoscenza di questi fatti però diciamo se hanno festeggiato ci sarà una motivazione. E' una motivazione che diciamo che dà un po' fastidio. La piazza a Garibaldi era semideserta nella mattinata e vicino al punto SNAI intestato al figlio di Donadio Adriano, ancora chiuso da anni, qualcuno aveva notato Luciano passato vicino al bar poco lontano. Non tutti a Eraclea hanno voglia di parlarne ma chi lo fa si interroga sul processo ancora in corso e sul suo esito ancora incerto. Io da piccolo imprenditore dove ho avuto un ammanco abbastanza consistente e in questo momento sento persone che gioiscono alle mie spalle però i soldi io non li ho mai ricevuti. Cambiamo ora argomento perché domani sera la comunità di Martellago si riunirà in preghiera per Angelo Zen, l'imprenditore sessantenne disperso in Turchia dopo il terremoto. Speriamo bene insomma che finisca bene tutto questo. Non fanno che ripetere queste parole a Maerne Martellago da quando si è saputo che l'imprenditore sessantenne Angelo Zen è l'unico disperso italiano a causa del violento terremoto che ha colpito la Turchia e dove Zen si trovava per lavoro. La famiglia che non lo sente da domenica si è chiusa nel silenzio. Un via vai continuo da ore qui in via Mulino dove c'è l'abitazione di Angelo Zen motivo per cui la moglie Patrizia che ha chiesto più volte di essere lasciata stare ha deciso di far posizionare queste transenne. La comunità è in apprensione, lo stesso sindaco non lascia il telefono nella speranza di ricevere notizie dalla Turchia nonostante le difficoltà logistiche come ha ribadito più volte il ministro degli esteri italiani che è in costante contatto con la Farnesina. È l'unico italiano disperso in Turchia ma penso che sia una tragedia mondiale quindi dobbiamo essere tutti uniti e avere la speranza che Angelo torni a casa prima possibile dalla propria famiglia per riabbracciarla. Lei ha già pensato a un'iniziativa? Sì come comune e come parrocchia di Maerne e grazie anche a Don Siro domani sera alle 18.30 sarà organizzata una messa, una preghiera di speranza appunto per Angelo. Zen si trovava al Sara Hotel completamente distrutto dal sisma situato nella città turca dove si è registrato l'epicentro. Originario del Varesotto ha vissuto a Romano Dezzelino e da alcuni anni si è trasferito a Maerne dove vive con la moglie Patrizia. Non solo la comunità di Martellago, un silenzio questo che sconvolge anche la comunità di Romano Dezzelino. Le ore passano e di Angelo Zen, il sessantenne disperso in Turchia dopo il terremoto, non c'è ancora nessuna notizia. La famiglia è chiusa nel più stretto riservo a Fellette di Romano Dezzelino. I figli Leonardo e Mirko sono in attesa di notizie da parte della Farnesina. Al campanello di casa non risponde nessuno, anche i vicini preferiscono non parlare. La famiglia Zen è molto conosciuta, è ben voluta in paese e la preoccupazione è palpabile. Alcuni concittadini che hanno modo di lavorare comunque con quelle stesse zone e magari hanno anche dei clienti comuni con il signor Zen mi hanno contattato e di conseguenza ho fatto da tramite con l'unità di crisi della Farnesina proprio per fornire queste informazioni, questi contatti che sono sicuramente risultati utili a quello che è lo scopo che tutti noi abbiamo in mente che è ritrovare Angelo Zen vivo. Zen, tecnico orafo, era in Turchia per lavoro quando la terra ha tremato portando distruzione e morte. Da quel momento la famiglia non è più riuscita a contattarlo al telefono. Le comunicazioni sono davvero difficili in questo momento e anche per questo si cercano contatti con persone presenti nelle zone terremotate che possano dare una mano nelle ricerche. Tutto quello che può essere utile, contatti diretti in loco o quelli che sono clienti di nostri concittadini che potessero avere delle informazioni aggiornate, dato anche la grande difficoltà che c'è nel mettersi in contatto con quella regione sono utili, quindi l'unità di crisi è sempre a disposizione per ricevere queste informazioni, questi contatti e fare in modo che i soccorsi in quella zona siano sempre più veloci rispetto a quello che abbiamo visto finora. Ci spostiamo ora a Mirano, sabato mattina al giardino di Villa Belvedere, l'ultimo saluto a Giordano San Geniti 21enne, motociclista, morto sabato pomeriggio in incidente stradale a Cadoneghe. Un saluto in forma laica nel parco di Villa Belvedere, nella sua Mirano, genitori, fratelli, parenti, amici e compagni di scuola sabato mattina alle 10 si troveranno per il funerale di Giordano San Geniti Il 21enne è studente di medicina dell'Università di Padova, morto sabato scorso lungo la strada regionale 308 all'altezza dell'uscita di Bragni e Bagnoli al confine tra i comuni di Cadoneghe e Campodarsego Il ragazzo ha perso il controllo della sua moto Guzzi a causa di una buca sull'asfalto ed è stato sbalzato violentemente a terra La procura di Padova ha aperto un'inchiesta e la famiglia del giovane vuole denunciare Veneto Strade per far luce sulla carenza di manutenzione in quel tratto stradale In questi giorni però mamma e papà di Giordano sono chiusi nel dolore e stanno organizzando l'ultimo saluto La scelta è ricaduta sul parco di Villa Belvedere, un luogo molto grande per consentire a tutti di poter partecipare Torniamo ora a parlare del giallo del corpo maritrovato di Isabella Noventa la segretaria uccisa nel 2016 dal trio diabolico formato dai fratelli Sorgato e dalla tabaccaia Manuela Cacco potrebbero esserci novità, sentite Dopo sette anni si torna a sperare nel ritrovamento del corpo di Isabella Noventa La procura di Padova sta aspettando gli esiti dell'esame del DNA sullo sceletro rivenuto nei giorni scorsi in un'area industriale di Marghera La segretaria di Albignasego era stata uccisa la notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016 Il suo corpo però non era mai stato ritrovato In carcere all'epoca erano finiti dopo un mese di indagini l'ex fidanzato Freddy Sorgato la sorella Deborah accusati di essere gli autori materiali del delitto e la tabaccaia di Camponogara Manuela Cacco loro complice nella messa in scena orchestrata per far sparire la povera Isabella Il medico legale che ha esaminato lo scheletro ritrovato lo scorso 30 gennaio a Marghera da alcuni operari che stavano sfalciando l'area ha stimato che fosse stato nascosto lì da almeno sette anni un periodo di tempo che coincide con quello del delitto 90 e poi l'area del ritrovamento una zona abbandonata e nascosta vicino a Porto Marghera e a un deposito di carburanti che Freddy Sorgato camionista che trasportava cisterne di benzina poteva conoscere elementi che hanno riacceso la speranza degli inquirenti anche se la famiglia della segretaria di Albignasego si mantiene cauta dopo tutti questi anni di sofferenza e piste che alla fine non hanno mai dato esito positivo il cadavere trovato a Marghera infatti aveva delle scarpe verdi e di taglia 38 Isabella Noventa invece aveva un piede piccolo calzava il numero 36 e al momento del delitto aveva delle scarpe nere e bianche altri riscontri potrebbero arrivare anche dall'orologio trovato sullo scheletro gli inquirenti stanno analizzando il numero di serie Cambiamo ora argomento erano oltre 2000 lavoratori anche da Santa Maria di Sala la manifestazione contro la chiusura di Saffilo a Longarone domani la protesta degli operai a Sanremo intanto ripercorriamo la mattinata nel servizio Sono quasi le 9 del mattino e siamo davanti allo stabilimento della Saffilo di Longarone sui cancelli stanno comparendo i delegati sindacali stanno appendendo gli striscioni di solidarietà che come potete vedere arrivano dai poli industriali delle aziende più importanti del Veneto Quante crisi ha visto nella sua vita lavorativa? Io qua ho lavorato 35 anni quindi ne ho viste di cose purtroppo fino a un certo punto è stato tutto bello tra virgolette poi negli ultimi 10-15 anni la cosa pian pianino è degenerata Parla un ex dipendente di Saffilo di Longarone che stamattina ha portato alla solidarietà i suoi ex colleghi oltre 2000 lavoratori hanno partecipato alla manifestazione allo sciopero di 8 ore proclamato da CGL Cisle Wille Sono le 9.30 e come da programma comincia ora a muoversi il corteo dei lavoratori di Saffilo ci sono anche molti sindaci della provincia di Belluno e della vicina provincia di Pordenone a portare solidarietà ai lavoratori Longarone, Santa Maria di Sale e Padova hanno sfilato fianco a fianco La paura nostra è che l'azienda un po' alla volta chiuda il cerchio e si collochi all'estero come produzione Non sappiamo da che parte cosa fare Saffilo è una storicità importante e da qui si punta chiaramente a difendere questo tipo di ambiente e soprattutto proteggerlo per i prossimi anni Attorno alle 10 il corteo raggiunge la statale 51 di Alemania che per un'ora viene interdetta al traffico dallo snodo del Quattrovalli fino all'incrocio Fercas Qui il colpo d'occhio del corteo dei lavoratori che hanno attraversato la zona industriale dello stabilimento Saffilo, la zona industriale di Longarone e che adesso arriveranno sulla 51 di Alemania e con Stefano Bozzi facciamo vedere che già il traffico è stato bloccato Poco dopo le 11 di nuovo tutti davanti ai cancelli dello stabilimento A turno il microfono passa ai lavoratori che si definiscono ostaggi di imprenditori senza scrupoli e si appellano alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni Continuando a dare contributi a questo tipo di imprenditori stiamo indetreggiando sempre più Se non c'è il lavoro per tutti, crolla la democrazia Fatture inesistenti per oltre 24 milioni di euro, un'evasione di oltre 3 e sequesti per più di 600 mila euro tra cui un'auto e un immobile Sono 37 le imprese operanti nel settore della produzione e del commercio della carta finite nel mirino di un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Udine e per cui sono stati emessi provvedimenti cautelari nei confronti di 6 società e 8 persone operanti tra le province di Udine, Venezia, Milano, Brescia e Cremona sequestrati anche conti correnti e crediti Un'altra notizia da Venezia Il Comune darà un contributo alle attività che hanno subito furti e spaccate iniziativa questa che il Sindaco Brugnaro ha definito unica in Italia Dopo l'annuncio alcuni giorni fa la Giunta Comunale ha approvato la delibera per l'erogazione dei contributi fino a 2 mila euro sostanziandone un totale di 200 mila per chi ha subito furti o spaccate Nelle ultime settimane aumentate notevolmente soprattutto tra Mestre e Marghera ma anche in centro storico Non solo la banda del Tombino, anche sbandati che agiscono per racimolare solo qualche soldo Crediamo che la nostra comunità deve stringersi attorno alle persone che hanno subito questa violazione che è vero che è della loro attività, però essendo un'attività commerciale è un'attività che dà sicurezza alla strada, dà sicurezza al territorio e noi vogliamo che si sentano davvero uniti nell'intento dell'amministrazione insomma di dare un segnale importante è una cosa che non ha fatto nessuno in Italia, ci proviamo noi se facciamo qualche errore lo miglioreremo, se non basteranno i soldi ne metteremo altri e vogliamo che i commercianti e le associazioni che stanno facendo tanto per la nostra città ci sentano davvero all'interno di questa comunità La delibera decollerà in una settimana con un bando specifico e dettagliate informazioni su come presentare la domanda 2000 euro il massimo del rendiconto che possiamo finanziare per ripristinare la vetrina, un pezzo di serramento o qualcos'altro che possa servire fino a un massimo del 50% delle spese se uno ha subito anche più furti può presentare più domande perché è giusto che hanno un contributo sia per il singolo furto L'erogazione riguarderà le attività economiche che abbiano subito nel triennio primo gennaio 2021, 31 dicembre 2023 danni materiali legati ad atti vandalici Come sono presentate dalle attività commerciali la denuncia a regolare i carabinieri chiaramente noi faremo un accordo con la Guardia di Finanza anche per eventualmente verificare random che non ci siano persone che se ne approfittano non abbiamo visto di tutto ormai Diversi manifesti con l'annuncio cercasi un sindaco di Venezia che viva a Venezia sono apparsi questa notte in vari punti della città completati dall'avvertenza a senersi per di tempo i predatori i volantini sono stati affissi nell'area della stazione di Piazzale Roma e dell'Accademia firmati solamente C16A rimaniamo ora a Venezia lavori di ampliamento e di rinnovo dei locali per la biblioteca VETS tutto a servizio dei giovani Una struttura moderna uno spazio di aggregazione per i giovani un luogo di eventi grazie alla costruzione di un auditorium è la biblioteca VETS in corso di realizzazione a Villa Erizzo dove i lavori dovrebbero finire come previsto per dicembre La biblioteca moderna studiata anche in quella che è la luce quindi una biblioteca tutta a vetrate con il fotovoltaico quindi anche con una tecnologia che risponde a quelli che sono i principi dell'efficientamento Il progetto prevede un ampliamento di oltre 1000 metri quadrati e il raddoppio dei posti disponibili arrivando fino a 400 La biblioteca sarà un'opera unica nel suo genere per la città metropolitana Tra le più belle in Veneto sarà molto capiente perché raddoppierà l'attuale capienza quindi circa 400 persone potranno studiare e vivere questi spazi sarà uno spazio tutto vetrato aperto ai giovani con molto verde al centro Il giardino al centro sarà ovviamente un prato verde dove poter appunto anche fruire di questo spazio E poi più luce grazie alle grandi vetrate un impianto fotovoltaico un auditorium da 100 posti un grande portico con tavoli e sedie insomma un luogo pensato e costruito soprattutto per i giovani di maestre E sono decine le iniziative che compongono l'edizione 2023 del Carnevale della Cultura Scopriamoli insieme Convegni, spettacoli, mostre, musica, teatro, cinema, giochi laboratori didattici e tura la scoperta di tesori nascosti della città A Venezia esiste anche un Carnevale della Cultura che con oltre 50 iniziative spazierà per tutto il corso della manifestazione di pari passo con le attività più di intrattenimento Una serie di eventi che riguardano tutte le associazioni e le istituzioni culturali della città le quali hanno messo in rete un palinsesso davvero eccezionale e che ha lo scopo di essere trasversale, inclusivo e soprattutto portatore di un momento di leggerezza ma anche di profondità La profondità che offrono gli eventi del Carnevale della Cultura estesi lungo tutto il territorio comunale e anche il pregio di saper valorizzare quel ricco tessuto di istituzioni e realtà culturali presenti in città Vi è una realtà ricchissima, molto qualificata, di eccellenze che lavora peraltro tutto l'anno e che produce cultura e aggregazione che trova nel periodo del Carnevale una caratterizzazione delle sue attività una grande partecipazione da parte dei nostri cittadini, dei nostri residenti che veramente hanno potuto così scoprire qualche volta anche delle realtà che non conoscevano Passiamo ora allo sport, l'Umana Reiger ha un nuovo coach Sarà il croato Neven Spachia, classe 1962, il nuovo head coach dell'Umana Reiger maschile che avrà l'arduo compito di riuscire dove non ce l'ha fatta nelle ultime partite Walter De Raffaele motivo per cui è stato esonerato dopo 13 anni Il croato ha guidato il Baskonia nel 2008 conquistando uno degli otto titoli nazionali della sua carriera dopo i due croati nel 2000 e 2001 con Zagabria quello sloveno nel 2003, quello lituano nel 2006 i due israeliani nel 2007 e quello turco nel 2018 Ha guidato anche la nazionale croata dal 2001 al 2005 disputando gli europei del 2003 e del 2005 sarà presentato ufficialmente venerdì al Palasport Tagliercio Da Venezia è tutto, vi lasciamo ora le previsioni meteo grazie per averci seguito, buonasera a tutti A Venezia per le tue compravendite Venice Immobiliare Cera, agenzia leader Ben trovati al meteo L'Italia sta affrontando l'apice dell'ondata di freddo artico causata da correnti nord orientali che continueranno a insistere anche sul nostro territorio Il tempo si manterrà buono Vediamo il dettaglio Sul Veneto la grafica di giovedì 9 febbraio ci mostra una situazione soleggiata con ottima visibilità possibile soltanto una residua nuvolosità nelle prime ore sui settori meridionali della pianura Temperature stazionarie minime sotto zero ovunque massime invece tra i 4 e i 5 gradi Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia anche qui la giornata sarà caratterizzata da un cielo in prevalenza sereno al massimo velato ma comunque senza piogge Temperature minime tra lo zero e i meno 3 gradi massime sui 4-6 gradi all'incirca Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove dominerà il sole ovunque il cielo sarà sgombro, danubi, dappertutto Temperature minime intorno ai meno 4 gradi massime sui 5-6 gradi Dal Meteo di Antena 3 è tutto grazie per l'attenzione Arrivederci A Venezia per le tue compravendite Venice Immobiliare Cera Agenzia Leader